Ciao ragazzi, sono Falco Nero e oggi sono qua insieme a Elisa per un nuovo video di Resident Evil 2 Allora, io direi di partire dalla centanina elettrica oggi Che è di qua Tagliamo la testa al toro Occhio Ma a parte dovrebbe essere C'è lui che sta là Là Abbiamo il pezzo No, qua l'abbiamo levato Se io scendo La centanina elettrica è qua Vabbè, signora Non si agiti, lei Rimanga tranquilla Rimanga tranquilla Stia manza, come diceva Galeazzi Dunque, ok Qua abbiamo ripulito tutto quello che si poteva ripulire Perché L'inter Questo si è rimesso a posare la rodola mentre l'aspettava Vabbè Si sta strisciando Pronto Ma com'è error È dell'altra stanza allora Ma com'è error Ma mortaggio Quella vicino alla mensa Ok, allora facciamo Facciamo il giro Dopo aver Dunque Qua mi dice che è ancora rosso Per cui vuol dire che manca qualcosa Non abbiamo raccolto tutto Che ci manca? A Mappa E polvere E infatti adesso è pulito Bene Quindi questo è sbagliato Optimus Optimus Per pietà Per pietà Per pietà Per pietà Per pietà Ok Quindi Allora Contenitore vuoto E Mi dia il codice Errore Contenitore vuoto E ho capito E dove lo riempio? Con la soluzione che Penso stia dentro alla serra PC dirigenti Io sono confuso Sì perché Andava fatto con Oh no De nuovo Via 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 Dov'è la porta? Dov'è la porta? Accesso al computer Non so far niente però Allora No Se io vado di qua Mi perdo Completamente tutto Ma dove? Ma dove? Eh? E Io Io Devo 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 andare Terminare di controllo PC Dirigenti Sotto Non c'è niente Perché qua Non me ce fanno entrare Andiamo alla stanza Quella vicino Scusa l'attima Ma qual è il problema Qui? Ah 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 Bastava fare questo Bastava Ma va Ma porca Di quella miseria Allora Ehm Abbiamo sbagliato Completamente tutto Tutto Perché io devo Uscire Porca miseria Porca Eh io Io sì L'importante è quello Allora Ehm Dovevo andare giù di qua Ehm Ok Ah 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 Leone Dagli in caso Devo? No no Non è quello Dovevo tornare a quello che mi dava error Mi dava error Grazie Grazie al cavolo Eh Perché dovevo Scegliere La Sintonia giusta Dovevo sintonizzarlo Con Ehm So dalla parte Col pannello Col pannello adatto Vedendo il nome del pannello Era Murph Sì Sì State zitto Allora Era 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 Murph E quindi Murph No Murph Quindi ovviamente È l'ultimo Ehm Questo 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 Ok Allora E adesso Sì Oh Vedi che E dobbiamo farlo anche a quello della mensa E dobbiamo farlo anche a quello della mensa Allora io partirai con la sala server Quindi Ehm A destra Dai dai che stiamo a prendere il ritmo Dai che stiamo a prendere Dopo l'inizio Un po' Balbettante No Sbagliato Porca Occhio Oh Ma che diamo Vabbè Vabbè Non gliel'hai staccato Vabbè Attacca Oh La sala server Quindi Qui c'è questo Poi che c'è sta Lascia chiuso Coltellaccio Combustibile Che non la posso prendere Ma io C'è la cassa Ma io sono venuto qua Per Per che cosa Per fare che cosa Per salvare Per salvare Sì Per salvare Bene Allora Deposita Combina Questo Questo non lo uso Per ora Basta Giusto Giusto Allora Salvataggio rapido Sempre Rigorosamente A cascata In modo tale Che non ci saltino Cose Allora È tutto molto bello Questo foglio Non recita nulla Che ci interessi Quindi io adesso esco Vado a destra Vado a sinistra E poi Ok Devo tornare Tipo indietro Questo si è messo giù A riflettere Sul senso della vita Io vorrei tanto Che ci fosse un tasto Per accendere Cosa Siccome Non promette Per niente bene Io so uno Che deve affrontare I problemi Con una doppietta In mano Vabbè C'è stato Eeeh Dunque Mettiamo vicini Bentornato Ci sono Cinque Nuovi messaggi Ma che Oh Comunque È patetica Sta cosa È ancora viva No 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 Stavo per lasciare la granata Era la fine Affetta Affetta Non dirà Non dirà Posta di Wayne Lee Rick Mendoza Che sta combinando Sai che ha fatto Quello Soso di Cartwright Serve una camomilla Beh è lui il capo Per ora Ehi Hai visto il mio trofeo Per caso Il codice nascosto Sulla base Se lo trovi Dimmelo L'ho già fatto da un'ora Ma che ha L'abbiamo già scritto Lo so E qua Perché la sorpresa È così proprio E così Proprio Non ce l'hai fatta A venire E va bene Non preoccuparti Dell'ispezione Della serra Te lo do io Qualcosa di semplice Da fare Calcola il budget Stimato Per l'anno successivo Al prossimo E fallo entro stanotte Sei vivo Siamo sotto attacco Ci sono un sacco di morti L'area è isolata Non possiamo attivare Il ponte Con i nostri braccialetti Ma dove Si è nascosto Quello di Cartwright La pianta 43 Fuori controllo La serra è un inferno Dobbiamo mandarci qualcuno Prima che sia troppo tardi Wayne Come fermiamo questo macello Devi aiutarci Rispondi Ti ricordi di Susi La cheerleader Che bella ragazza Paceva entrambi Ma ovviamente Non era interessata A due nerd Devo ancora restituirti I fumetti E i giochi Che mi avevi prestato Credo che dovrai aspettare ancora Ma in tutto ciò A noi La pianta 43 Io prendo appunti Magari è quella Che ci serve Per riempire La fialetta Aspetta 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 Qua 43 era? Si Chi ha lasciato Il freezer aperto? Cacchio Ma che cosa? No no Allora Va prima Scusa Nei nostri appunti Avevamo scritto Che la sostanza Andava Ah ecco Per raffreddarla No no Prima Che avevamo scritto Prima Erbicida Eh bisogna metterci L'erbicida E poi va raffreddata No E dov'è che sta L'erbicida? Eh è quello Che non riesco Allora Dobbiamo andare Da un'altra parte Abbiamo fatto le cose Nell'ordine sbagliato Temo Andava fatto Prima Quell'altro Allora Allora A questo punto Noi dobbiamo salire E ritornare Alla serra E ritornare Alla serra Che è qua Centenne elettrica Capirai Allora Mi devo fare Tutto il giro Fino Vabbè Ragazzi Ci aggiorniamo A breve Si è fatta Complicata Si è fatta Molto Complicata La signora Immune al fuoco Benissimo Signora Si può uscire Dall'angolo Allora Quindi Non facciamo Tagli Meglio Dalla parte Quindi Devo girare E Ce ne Torniamo Di qua Anche perché Anche perché È chiaro Che Come si dice Se Andiamo avanti In questo modo Non si arriva Da nessuna parte Sparandogli A quelli Fatti D'erba Bisogna Dargli fuoco Così Come era scritto Poi Appunto Sprego Proiettili E basta Non c'ha senso Andiamo diretto Con questo Non abbiamo nulla Per curarlo No Prima a sinistra Andiamo Sì Sembrerebbe Todo tranquilo Dovrebbe esserci L'altro murfo Qui a fare Allora Ah qui è muff Qui è muff Ti immagini Se avevamo lasciato Quello di là Allora Muff Ok Sì Qui non c'è Vorrei Perdo tempo No Dai Su Basta Basta Non li posso Più Vedere Questi Il borsello Un nuovo Borsello Nota di Wayne Lee Dio santo Sangue Dappertutto Cosa diavolo Sta succedendo Sono morti Sono tutti morti Sono stati quegli uomini Le forze speciali Del quartiere generale Ma perché Non dovevano proteggerci Ci sono cervella E sangue Dappertutto Ditemi che questo è un incubo Dio santo Perché Non dicevano tutti Che sono un genio Un genio come me Non può morire In un posto come questo Ho sempre ottenuto Ottimi risultati Mi hanno fregato Ah ma sarò io A fregare loro Vincerò il Nobel Sono un eroe Un genio Un dio Non morirò Non E invece è morto Bene Ma quindi Io sono venuto fin qua Per fa che Ci sarà qualcosa fuori Che si è spaccato Che si è aperto No Ci è qualcosa Che non abbiamo capito Mia cara E allora Lo andiamo a capire Allora Dovevamo mettere Il codice Del 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 trofeo Allora Simboletti Si Faccio da me Grazie No Hai sbagliato Perché il secondo È questo Non è questo Ma porca Miseria Allora Quello Si Poi giù in fondo Si Questo Si E quello Che hai sbagliato prima Ok Bene Abbiamo aperto La test lab E dov'è Di grazia E ma qua ci stiamo C'è qua Allora scusa E non è infatti Ah ecco qua Ah ok La scala La scala a destra C'è l'ho Allora Io siccome Non ce la faccio più Andavanti con sta storia Dritto Venga venga Sarà tutto finito Tra poco Ma come Ma come Vabbè Vabbè Quella finta Questo Quando va il fiammone Bene Bene Ah C'è qualcosa Ah il mio coltello Di prima No 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 Eh ma è sempre qua Ma l'avamo già aperta Sta cosa No c'è C'è Qualquadra Che non cosa Ehm Cosa Oh Io Non Non sto capendo Ah oh Ma che hai deciso Pizzatina in più Non 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 è chiaro Che cosa Abbiamo aperto Perché Allora Ah Allora Mettiamo Eccolo qua Modalità manuale Attivata Regolare la soluzione In base alla capacità Del contenitore No Ce l'ho Ce l'ho Beato Io ci sto Che cacchio Scusa ma la soluzione giusta È quella di sinistra No non ce l'ho Ehm Ero sicuro di avercela Ma non ce l'ho Ma dobbiamo riempire Tutto quello grosso No Quello 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 Non lo so Ehm Dunque se io metto Questo Sicuro che non è tutto quello grosso Sì sì Perché se io faccio così Va oltre Va oltre Se io faccio così però Sta giusto No 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 Ce l'ho Ce l'ho Sì Che genio Ok Ci ho messo un quarto d'ora Però che genio Vedete quanto mi ama Questa donna Ehm Ok Quindi adesso Andiamo a A raffreddarlo Alla stanza di raffreddamento Ok Qua abbiamo fatto tutto Arrivederci E grazie Qua si è dato fuoco a tutto Per cui per me non ne abbiamo Tutto l'infocabile Tutto l'infocabile È stato Infocato Allora Ora Il raffreddamento è poi là Il raffreddamento Dove mi era? Mi era di là E allora come è che passo Per le scale? Poi quando Ci siamo Ah già Scalo 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 e via Vai Lio vai Scalo e via Continua così Mamma mia Comunque So giochi Che ti fanno Spremere La capoccia Allora Che poi all'epoca Era bello Era bello vedere Un gioco horror Con questo tipo Di enigmi Sì appunto Le due cose insieme Spettacolari Io continuo a pensare Che se facessero Dino Crisis Fatto in questo modo Sarebbe la fine di tutto Non lo faranno mai Ah ma è quell'altro Che li muove Ah ecco perché Questa è rimasta È ancora viva Io non ce posso credere Oh Adesso sì Adesso sì Eui Euiua Bene 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 La velocità della luce Bene Bene Quindi adesso dobbiamo riportare Tutto Raffreddamento completato Dobbiamo messo il codice Fatto Adesso me ne vado E ritorniamo Alla zona del codice Che mi è di qua No Ho sbagliato Sì va bene Leone Santo cielo Benedetto Due morsi ai piedi E stava per morire Aspettavo la statuetta Sì sì Ma tanto Andava a scartare Il terrore Negli occhi di Elisa Ha scartato Una statuetta Allora Che bello Non avere più L'accollo De quei due Anzi De quei tre Cari piante Arrivederci Che cosa? Fai pure in attenzione In corso No Muore luce Ah no Il dispiacere Di aver risolto la cosa Funzionato Funzionato Attenzione Soluzione pericolosa Dispersa Senza autorizzazione Siete stati monitorati E sarete soggetti A misure di scelta Sì State zitta Puri te Su Merde Oh porco Oh no Oh no Oh no Ma pure qua Oh no Ah 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 zio Ma te ne vuoi Sta dall'altra parte Uncle Tom È tornato Uncle Tom PC PC Accesso al computer Devi metterlo nel braccialetto Una porca Posta di Byron Kirtle Da quando il nest È diventato un covo di spie Tre solo lo scorso mese E altre quattro Queste sono solo quelle Che abbiamo individuato Migliori la sicurezza Cartwright Vuole fare la fine Del suo predecessore Inoltre da oggi Limiterò l'accesso All'area OVE Signore qualsiasi richiesta Di informazioni Su G Dal quartier generale Quei colletti bianchi Non danno comunque Alcun contributo A questo progetto Rilevata dispersione Erbicida Da dipendente Non autorizzato E che ero io Vabbè Signori Io vi saluto Anche perché c'è Zio Tom Che mi sta inseguendo E ci sarebbe Bisogno di andare Quindi Io direi Che insomma Per oggi Credo che abbiamo fatto Abbastanza Abbiamo da aprire L'area OVEST E ci sarà da divertirsi E ci sarà da divertirsi Parecchio Perché Immagino che non sarà Affatto semplice Per cui ragazzi Niente Per il momento Vi salutiamo Non sappiamo Se durante il weekend Ci saranno nuovi episodi Per cui eventualmente Ci si rivede lunedì In caso Ad ogni modo Ormai ci stiamo Insomma E tra l'altro Colgo l'occasione Per domandina Considerando che La run di Claire È più o meno Simile a quella Di Leon Non so Se avremo modo Anche perché Settimana prossima C'è Metro Anthem Tutti quell'art Che già vi ho detto 50 volte Per cui Vedremo un attimino Intanto fateci sapere Però Quanto e come Vorreste Un'eventuale Seconda run con Claire A patto che ne valga la pena Perché appunto Non ricordandomi nulla E non sapendo Effettivamente Come sia impostata Chiedo a voi Info Al riguardo Pensate che sarebbe Una cosa Adatta Oppure no Fateci sapere E poi Valutiamo tutti quanti insieme Detto ciò Ragazzi Vi salutiamo E vi diamo appuntamento Alla prossima Ciao Ciao ragazzi